Allora, siamo sempre qui con il nostro dottor Davide Bimbatti, oncologo. Ci parlavamo appunto di elementi sintomatici, di fare attenzione come la prevenzione, la diagnostica e tutto quello che può servire per intervenire sempre precocemente o finché sia ancora in tempo. C'è un messaggio che è arrivato. Quanto incide un eventuale HPV per la formazione di un tumore e come si curerebbe un HPV grazie per l'attenzione? Quello che l'avevo chiesto un po' interessa penso molto anche rispetto a quelle che sono persone più giovani. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, l'HPV incide parecchio per la formazione del tumore, anche se poi bisogna fare dei distingui. Ci sono alcuni HPV che non sono fattori di rischio per il tumore e altri HPV che invece sono... Ah, ce ne sono diversi. Ce ne sono diversi, ce ne sono diversi. Alcuni più a rischio, altri un po' meno. È ovvio che bisogna fare A, una diagnosi, B, un controllo e in secondo luogo si può curare l'HPV. Al giorno d'oggi però le due cose che sono fondamentali è controllare, controllarsi seguendo lo screening e quindi effettuando dei pap test regolarmente. Da un lato, proprio per arrivare a una diagnosi che sia precocissima e quindi a un tumore che sia semplicemente molto superficiale e completamente curabile. Dall'altra parte invece è molto importante ed è partita la campagna vaccinale che ovviamente fa sì che queste infezioni siano evitate grazie al vaccino. Per cui molto molto infondamentale anche aderire o far aderire le donne più giovani o in età adolescenziale a questa campagna vaccinale proprio per ritrovarci senza più questo problema negli anni a venire. Lei ha mai affrontato situazioni di degenerazione dell'HPV? Può capitare, non è l'organo obiettivo della nostra cura in Oncologia 1, però sicuramente possono svilupparsi tumori della cervice e dell'utero o soprattutto anche avanzati, sono molto poco frequenti proprio perché l'attenzione delle donne per fortuna è molto alta e negli anni è stata sempre molto più alta, quindi di solito sono persone magari più anziane che smettono di fare controlli o che non li hanno mai fatti, sono tumori purtroppo che possono avere un alto tasso anche di mortalità se diagnosticati in fase tardiva. Però devo dire che ormai per fortuna sono rarità proprio dovute all'attenzione che c'è su questa problematica e alla capacità delle donne molto più degli uomini di sapersi controllare continuamente dai propri ginecologi. Infatti si sente molto spesso ovviamente che la donna ha il proprio ginecologo, mentre l'uomo spesso non ha il proprio urologo come se fosse l'amico di famiglia e questo però ha fatto sì che molti tumori dell'ambito ginecologico andassero via via quasi scomparendo. Il vaccino farà ciò che manca da qui in avanti. Io volevo chiedere, i linfonodi, possono essere linfonodi ingrossati sintomo di qualcosa che non va, che c'è un tumore in atto? Come dall'altra parte c'è il PSA per gli uomini. Assolutamente, purtroppo molti di tutti questi tumori sono interni e i primi linfonodi che si vanno a ingrossare sono all'interno del bacino e sono inarrivabili sia a una visita sia a una sensazione. Quindi non è il linfonodo che uno può immaginare sull'inguine? Bravissima, a differenza magari dei linfonodi ascellari per il tumore al seno, non sono quelli dell'inguine i primi a ingrossarsi, per cui anzi quelli dell'inguine drenando tutto l'arto inferiore spesso sono ingrossati o sono rimasti grossi dopo infezioni dell'infanzia o dell'adolescenza, per cui non sono per niente di aiuto nella diagnosi di questi tumori e non si ingrossano come primo specchietto d'allarme. Ecco, il discorso del PSA per chiarirlo l'avevo accennato prima, ma se è segnalato che c'è il PSA, questo non necessariamente vuol dire che c'è un tumore, come a volte c'è un tumore ma il PSA non segnala? Esattamente, il PSA ahimè non è al momento un esame che sia incluso in uno screening completo, questo proprio perché ci sono casi come diceva di tumori senza PSA e tanti casi di non tumore nonostante un PSA elevato, ovviamente la prostatite, l'ipertrofia prostatica che sono condizioni non tumorali sono la prima causa di rialzo del PSA, per questo che sì è possibile discutere col proprio medico di base di effettuare esami cadenzati una volta all'anno del PSA, il cui risultato però andrebbe molto spesso o sempre analizzato con un punto critico o insieme a una visita della prostata, e qui di nuovo il ruolo dell'urologo è fondamentale nel aggiungere informazioni a quelle che il PSA da solo a volte non riesce a darci completamente, per cui per avere un completo quadro della prostata è utile anche una visita, quindi è utile che il PSA, specie se elevato, sia considerato insieme a un urologo professionista. Con lei fa parte di oncologia, un altro messaggio, dopo le faccio la domanda, gli integratori come la serenoa aiutano la vescica e sono antitumorali, quali si dovrebbero prendere? Allora, ci sono sicuramente tanti integratori, la serenoa ma anche gli estratti di mirtillo che si dice purifichino le vie uroteliali, questo è sicuramente vero che le vie urinarie si giovano di questi integratori, possono essere presi. Uomo e donna, quindi la serenoa, l'uomo forse... Assolutamente, sia uomo ma anche donna, soprattutto per gli estratti di mirtillo, diciamo però che non hanno un impatto sulla prevenzione dei tumori, per cui l'unica cosa da fare è evitare di fumare per le vie urinarie, questi integratori possono facilitare ad evitare infezioni, ad evitare altri problemi delle vie urinarie, ma non hanno nulla a che vedere con la prevenzione del tumore. Dall'altra parte, mi raccomando anche attenzione a ciò che si assume, perché tutti gli integratori hanno o possono essere sostanze che vengono metabolizzate dal nostro organismo, quindi non è detto che siano scevre di pericoli e non è anche detto che poi non si vadano a accumulare nella vescica tossine piuttosto che non prodotti buoni, per cui attenzione anche a quali integratori si vanno a assumere, non sempre sono positivi per il nostro organismo. E in ogni caso che assume tisane, integratori vari, deve comunicarlo al medico, che è un'altra cosa che tante volte è così. Allora, diciamo che ci sono cose commercializzate che sono sicure, altre invece che possono essere un pochino più a rischio, e poi ci sono cose fai-da-te o che si trovano spesso in internet, o se si assumono dosaggi più alti del consigliato, che allora lì andrebbe consultato o almeno richiesto il parere del proprio medico. Vogliamo sapere, ancora un messaggio, no, non riesco a fare la mia domanda, mi aiutate a capire se il PSA è utile e in che modo? Ho sentito dire che spesso è fuorviante. Assolutamente, appena finito di dire, è importante, il PSA può essere utile ma deve essere, deve far parte di un approfondimento insieme a uno specialista, magari un urologo che possa fare anche una visita della prostata. Può essere fuorviante, questo assolutamente sì, purtroppo PSA di poco elevati sono più spesso dati da patologie infiammatorie o benigne come l'ipertrofia, e un PSA elevato può portare a una serie di indagini strumentali, risonanza e riscontro di piccoli noduli, magari non tumorali, ma per i quali serve tutta una serie di indagini, a volte anche invasive, che poi portano a un nulla di fatto. È vero, è un percorso che può essere iniziato da un PSA fatto magari in assoluto benessere, ma per quei pochi casi in cui il percorso è difficile e non porta a niente, ci sono anche quei casi in cui il percorso porta a una diagnosi precoce. L'unica cosa, ripeto, è parlarne e mettere insieme i dati con altre informazioni ecografiche, di visita o di risonanza insieme a un urologo. Percorso terapeutico che voi oncologi seguite, quindi entriamo nello specifico anche oncologia 1 di cui lei si occupa all'OIOV, qual è? E poi c'è una presa in carico del paziente? Assolutamente sì, in questo momento per fortuna all'OIOV c'è un team multidisciplinare che oltre che di prostata con la Prostate Unit si occupa anche di... Ah, c'è la Prostate Unit. C'è la Prostate Unit, assolutamente, quindi è un team che si occupa esclusivamente di prostata, ma poi abbiamo un gruppo multidisciplinare parallelo che si occupa di tumori delle vie urinarie e del rene, quindi condividiamo la presa in carico, la fase diagnostica e soprattutto la fase terapeutica del paziente e questo è molto importante perché per fortuna, soprattutto per i tumori uroteliali della vescica, noi oncologi interveniamo fin dalla diagnosi con dei trattamenti chemioterapici per i operatori, quindi fatti o prima o dopo l'intervento, che possono aumentare il tasso di guarigione di questi tumori quando diagnosticati in fase precoce. Questo è molto importante. Assolutamente, quindi noi sappiamo che all'OIOV c'è la ricerca. Quindi ci sono percorsi terapeutici innovativi, farmaci, lei ha accennato alla chemioterapia che rispetto a qualche anno fa si sono evoluti e anche hanno meno effetti collaterali nella loro somministrazione, dottore? Assolutamente sì, sia per il tumore renale da 4-5 anni ci sono dei trattamenti di combinazione molto più efficaci dei precedenti, sia per il tumore della vescica, avremo a breve dei trattamenti innovativi molto molto efficaci. Ah, a breve, quindi siamo in attesa. Siamo ancora in attesa, noi li abbiamo avuti all'OIOV per fortuna come trattamenti sperimentali, la sperimentazione si è conclusa, era ovviamente internazionale ed è andata a buon fine, adesso dovremo averli anche disponibili, non solo noi ma in tutte le oncologie, ci vorrà un pochino di tempo prima che ovviamente siano disponibili a tutti, però sicuramente stanno apportando grandi benefici sia nel trattamento della malattia avanzata della vescica che è una malattia ancora molto ostica da poter trattare ma che potranno nei prossimi anni, e qui ancora siamo in attesa dei risultati, dare un aumento dei tassi di guarigione quando la malattia è limitata alla vescica, sempre insieme alla chirurgia, ma chissà in un futuro potremmo anche pensare o l'obiettivo è quello di avere trattamenti tali da poter lasciare la vescica lì dov'è e non arrivare all'intervento, si parla ovviamente di un futuro un pochino più in là ma l'obiettivo di tutte queste sperimentazioni, di tutto l'impegno è quello di arrivare ad evitare un intervento tanto demolitivo come può essere quello di cistectomia, quindi di togliere la vescica. Perché questi interventi in caso di carcinoma esistono, si praticano e sono quelli che salvano la vita? Assolutamente sì, togliere la vescica per un tumore limitato alla vescica al momento è l'unico cardine della guarigione, la chemioterapia aumenta la possibilità di non avere delle recidive, quindi aumenta il tasso di guarigione ma deve essere fatta una chirurgia e la chirurgia purtroppo vuol dire togliere la vescica arrivare all'urostomia, quindi avere il sacchetto per le urine o al giorno d'oggi per molti più pazienti grazie alla robotica ma anche a molte tecniche chirurgiche si può creare una neovescica che però sicuramente evita il sacchettino ma non è scevra di problemi o di complicanze. Questo è un intervento ancora ahimè che spaventa molto, lascia una cicatrice non solo fisica ma anche mentale perché ovviamente è difficile come percorso da affrontare, può salvare la vita chiaramente ma il prezzo è ancora un pochino alto e quello che si cerca di fare per il futuro appunto è di evitare in chi possibile grazie al miglioramento di tutto il percorso e di tutti i trattamenti questo intervento molto molto brutto. Impattante, assolutamente. Allora, interrompiamo un attimo perché abbiamo il break publicitario qualche secondo sempre se restate sul 19, parleremo anche appunto di cosa vuol dire la chemioterapia sostanzialmente perché poi è una parola, però detto questa parola ci sta tutto sostanzialmente un mondo e poi i fattori recidivanti quindi quando si può ripresentare questo problema in che ambito, in che range anche di anni, di età, quindi l'aspettativa di vita che è quello che poi a moltissimi pazienti interessa. Tra poco restate con noi.